Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova Bill Battle in compagnia di Marci Ciao a tutti Per oggi Marci non era abbastanza, quindi abbiamo chiamato mia cugina, l'unica inimitabile, apatica che noia Inimitabile però è pesante, ci stava Ciao, inimitabilmente apatica Perché ragazzi, ci avete detto, avete scassato la minchia con le Bill Battle in team Dovete provare di nuovo a farle da soli E bisogna anche un po' cambiare la solita coppia Allora ragazzi, tutti e tre sulle Bill Battle ci sfideremo l'uno contro l'altro In questo video dobbiamo superare gli 8888 like più 3333 Scriveteci nei commenti con hashtag erencalcoloquantofa e mettete quei like Scusa, è tipo un calcolo renale sembra così, cioè sembra una malattia Comunque ragazzi, oggi vi porto anche due partite così, perché siamo buoni Allora ragazzi, dobbiamo fare Pac-Man, ricordiamoci che qua c'è meno tempo rispetto alle Bill Battle normali Quindi vi dovete muovere, sbrigatevi Oh Ragazzi, ma io non sono capace, ma perché mi avete portato a fare ste cose? Per ben figurare rispetto a te, che farei schifo, no? Chiamaci scemi Chiamaci scemi Io non sto assolutamente googolando niente ragazzi Io te lo giuro, non sto googolando Ma io veramente non sto googolando perché tanto ci rinuncio a prescindere Io mica sto googolando raga Allora, per prima cosa Ma poi Pac-Man è una cosa in 2D, come faccio a farlo in 3D? Io l'ho fatto in 3D Devi fare il tasto sfera E crei una sfera Guarda, lo sapevo che devi fare sta battuta Stupidissima Vedete, voi mi chiedete Porta Martina nelle Bill Battle Sì, ma poi fa le battute sciocche Oh dai! Sei proprio una sciocca Nei commenti scrivete Martina sei una sciocca Una c'è sola? Sì Perché ha 2C non telemeriti Ciccola maia, dove veniamo? Minchia ragazzi Basta Ma cos'è? Ma cos'è sta Bill Battle Trap? Cioè è Minecraft Il mio è un po' schifo comunque Ne è un concerto Allora Io non sto facendo Pac-Man, sappiatelo Ah raga, ma io non ho idea del tempo, del tempista Ma tu sai di essere al mondo, almeno No raga, ma che è? Il mondo Raga, io non so giocare Non sai giocare al mondo? No, non so giocare al mondo Che cosa stai dicendo raga? Allora, io sto per creare Pac-Man, ok? Adesso Sì, sto per creare Pac-Man proprio adesso Hai qualcosa in contrario? Eh? Sei razzista solo perché ha il muso giallo? Va che io ti denuncio Non ho detto niente Ragazzi, avete sentito quello che ha detto? Lo avete sentito tutti Siete tutti testimoni Ecco Non ho fatto niente Però Devo dire che il fatto di aver portato Martina nelle bilbattola Ha totalmente annullato Marci Che di colpa è scomparso Non parla più No, io sto tranquillo Marci ti ho annullato Cioè Marci ti ha proprio Comunque Renan ha detto che sei un'annullità È che mi sta impegnando un tot Sì, ha detto proprio questo Non ho detto questo Non lo direi mai Lo direi solo di Martina Ma di Marci no È che mi sta impegnando un tot Ti sta impegnando un botto? Sì, però Non mi sta impegnando una merda Ovviamente Il Pac-Man è una papera Che sapessi Cosa ti posso dire Raga, ma Bisogna per forza chiuderle le cose in 3D? Guarda, se non sei la DPG La devi chiudere Ma lei è sfiera Nito Raga, è orribile il Pac-Man Raga, ma perché mi dovete far fare le cose tonde su Minecraft? Anche il mio è orribilissimo, lo giuro, raga Cioè, è il Pac-Man più brutto che si sia mai visto sulla faccia di Minecraft E non si è mai visto Pac-Man Quindi, cioè, è un problema Presumo Ma io non lo finirò mai, ora che ci penso Io... Cioè, tu non devi pensare in queste partite Tu devi agire Raga, mi sa che proprio non avevo... Ho preso bene le misure e fallirò miseramente Beh, questa cosa mi fa solo che piacere Raga, non ho preso per niente L'ho fatto troppo grande, non volevo Ma l'ho sbagliato Ho sposto di fare tutto da capo Avrei fatto gli omini di Pac-Man Non ho fatto gli omini di Pac-Man Ah, i fantasmini Non ho fatto i fantasmini Ah, sei banale, dai Ho fatto la pista Vabbè, raga, non è chiuso il mio Pac-Man, è un problema? No, ti chiameremo Martina F d'ora in poi, però va bene Io ho fatto praticamente la pista con i pirulini da mangiare C'è il Pac-Man che è orribile, però c'è Raga, non è chiuso il mio Pac-Man, dai Raga, via, il mio è brutto, però Eh, mica, il mio Pac-Man, mica lo chiudo io Figa, tacca Il mio Pac-Man è una pata, però Boh, non è così brutto come sembra Oh, la sera perché fa più atomos Vottiamo se... Cosa è questa cosa, Isa? Cosa hai fatto, Isa? Io ho votato Poop Anche io, beh Ah, ma non ho neanche fatto in tempo Ok, questo l'ha fatto Ha fatto l'idea mia Però senza completarla e con il 2D Quindi Poop, assolutamente Mio! Mi è bello, raga Marce, l'hai fatto bene, però perché non c'è la... La pista? Perché non ho fatto in tempo, guardatelo bene, raga Ma Martina l'ha votato Poop L'hai votato Poop, no I don't know how to draw Pac-Man con la K Super Poop per la K Come ti permetti? Lui ha fatto il Fantasmino e basta che... No, no, tutte e tre, ma ho fatto il Super Poop Hai ragione, è banale, è una pixel art Poop, 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 Poop Eh, Super Poop, no È vero che c'è la ciliegina Però è davvero orribile Sembra un tremor giallo Che sta per addentare una mela Attenzione Raga, guarda che bello Ma che cazzo Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Tina, guarda, io ti ho votato K Io ti ho votato Super Good, sappio Eren, guarda, io ti metto K È brutto Dai, c'è tutta la pista È abbastanza bruttina, devo dire Ti sta bene che ti ho dato Puppe e non te lo volevo dire Come? Questo pure Puppe Che è sta cosa? Dove siamo finiti? Io vado seriamente tutti, raga Anch'io, questo è Puppe Raga, ma sono tutti brutti, però Cioè, ragazzi Che cos'è? Secondo me vince O quello di Eren Me lo auguro Sì, per ora Probabilmente sì Sì, ma sono tutte pixel art Questo però ha fatto una cosa fida Sì, però È tutto storto Cioè, mi turba l'anima Questa cosa Ok, questo è proprio Io l'ho votato Good, questo qua L'ho votato Good Ma almeno Ma fare uno sfondo nero Blu, giusto per, no? Non ti costa niente Vedi, fanno tutti lo sfondo nero Poi fanno una pixel art strana Però intanto lo sfondo c'era Questo che? Vabbè, ma non sapevo mai così Ma cos'è, raga? Dai, per favore Perché? Ma c'ha i piedi Perché li sanguinano i piedi, raga? È una faccina apatica, ragazzi Perché li sanguinano i piedi, questo? Ma quanti ce ne sono? Mi sta divorando Le palline Questo non è brutto come Pac-Man Dai, ci può stare Non è brutto come Pac-Man Io ho votato tutto Ma da Marci! Ma perché ho in noi? Mamma mia! Ma infatti, ma perché io quarto? Ma con quanto di stato Ma scusa Ma chi è arrivato nel mezzo Tra me e Marci In tutto ciò? Io Sono arrivata a sesta Sì, e te proprio o no? Ragazzi, eccoci Con la seconda parola È uscito Mouse È un topino Ma Mickey Mouse Voi cosa fate di bello? Un topino Faccio un mouse Un topino Questo l'avevo capito Ti faccio davvero un mouse? Tu fai il mouse del PC? Da gaming, sì Mouse da gaming Ok, io penso che cercherò Perlomeno di fare un topolino Anzi, Martina No, ragazzi, ma io ho scelto dei blocchi Mi dice che non posso usarli in questo server Perché questo server è un 8-9 Eh, volevi Guarda che faccia Non si... Basta È passata di moda anche questa Allora Cos'è che dobbiamo fare, Martina? Un topino Perché? Perché? Bello da dire? Non so, è bello Sì, effettivamente Un topino Un topino Perché parlate come i bolognesi? Un topino È vero Se abbiamo detto Un topino Basta, raga Basta Aaron, perché i miei video Devono sempre degenerare Ma non lo so Ma siete voi che Cioè, se voi vi guardate Il mio video in single player Da solo Per i cazzi miei Dipende dal gioco Cioè, tipo Se mi vedi fare Rock O'Vegis Tipo sclero come Un malato mentale Io ho visto che lo stavi registrando Bastardo Non ti dico cosa è successo Però, normalmente Cioè, vedi una serie di sopravvivenza Sono un ragazzo normale Poi arrivano questi due qua Divento scemo Un topino Non dirlo più Tina, ti prego Non lo so Io voglio che lo dice ancora Perché tipo Mi ha ipnotizzato questa parola Com'è che era? Un topino Lo so, c'è questa cosa Missa tra il cringe E La soddisfazione Il mio purtroppo è brutto Il mio è brutto forte Ma, scusa È appena iniziata la partita No, è brutto Te lo giuro È orribile È appena iniziata la partita Ti ripeto Sto registrando E ti dico che è brutto Sto registrando Martina, sta registrando Martina, sta registrando Lasciala stare Cioè, mi parla Non anche se dico che sto registrando È un video uncut questo Ecco No, non posso C'era Non ha sbatta di editare Lo sto video Quindi, grazie Eh, dai Io l'ho detto Grazie Allora Il mio topino Il mio topino Sta procedendo E Niente, ragazzi Davvero Mi viene mal di testa Raga, io lo sto distruggendo Il mio topino Perché? Lo sto distruggendo Il tuo topino Perché è veramente brutto Povero topino Anche il mio fa Troppo cacare Povero topino Guarda com'è carino Il mio topolino È facile da fare il logo Razer Eh no Io cosa sto facendo Della mia vita Cioè, sono qui Che parlo come un deficiente Che disegno topi su Minecraft Ah già È il mio lavoro Torno all'opera Ok Questo risvolto Inaspettato Allora Voi come li fate I baffi del topo Se li fate? Eh Sono ancora Concentrando su Ah giusto Marci è anticonformista Ah è vero Che banale che sei Vero Non è la persona Più banale che conosci Sì, sì Più banana soprattutto Io in realtà no Non è la persona Più banale Che schifo raga Che merda Ti è uscito male? È uno scempio Ci ho provato a farlo figo È però Troppo uno scempio Sì, devo dire Che anche il mio topo qua Non è che Mantupino Aspetta ragazzi Ma ho l'idea della vita Se io gli faccio Un qualcosa che Lo rende femminile Io posso fare Il titolo Disegno una bella topa In Minecraft Cosa rende un topo Famile? Secondo voi? È Il rossetto Li faccio un fiocchettino Rosa Da qualche parte Proviamo a fare Un fiocchettino rosa Ma come si fa Tipo A prendere Quelle cose lì Del titolo qua Le testine piccole Le testine Questa è un'ottima idea Grande Tina Vado subito a prenderle Va bene Però non ti dirò Come si prendono Questi in teoria Sono dei baffi Però non sembrano Dei baffi Non so Le ho messe un po' a caso Però sono carine Da vedersi Quindi le lasciamo lì E poi prendiamo Questo Testo Raga È una porco 2 di merda Il topolino Che carino Gli facciamo il formaggino Davanti Sì Facciamogli il formaggino Non si può cambiare Il pavimento Eccolo qua Il formaggino Ma che bella topa Raga Ho disegnato Una bella topa Non ho fatto in tempo mai A finirlo Allora Questo è effettivamente Un mouse Io lo voto ok Lo voto ok Perché questo è più bello Del mio Questo è più bello Del tuo Cos'è più bello Del mio Ma che cos'è Cos'era È un autobus Fatto di sterco Con una coda Che cos'era Cosa ho visto Questo è un gatto Raga È un micio Bello Un micilino Io ve lo giuro Io voto tutto Puffse così Per ora si Per ora si Questo è un endermite È un endermite Raga Non è un topo È un endermite Raga il mio Votate meno bene Sulla punice Per favore Che cazzo è sta cosa Raga dov'è Ma cosa c'entra La sfida è cercare Quanto random è Questa cosa Stava facendo una challenge Questo è un mouse Anche lui ha fatto il mouse Ah sì Sei banale Questo vuole fare il cos'è Perché deve chiamarsi Però raga Sinceramente Io almeno ci ho provato Oddio che bello Questo è proprio Un topino Quel formacino È una topa È una topa È una topa Questo è il mio Dai ci sta però Ci ho provato Che cos'è scusa Ti do ok per amicizia Ma non ho capito nulla Non riesco a capirlo È il logo rete Quello centrale Raga perché È uno spermato zoo Che spruzza tipo baleno Io l'ho votato leggendary Mi fa posire a questa cosa Raga io ve lo dico L'ho votato leggendary Eh quello di Martina è bello Quello di Tina l'ho votato super poop Ma cosa sei scemo? Io l'ho votato epic Quello di Martina Che come epic Vuoi far vincere Questo Quagli altri ho votato poop Ma sei una merda No sto scherzando Che cos'è sta cosa? È uno scarapace È un carapace Infatti Raga votate leggendary Questo si è griffato da solo Io voto poop Dai Marci Basta trollare a caso Poop 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 assolutamente Vabbè Bisogna votare bene Ogni volta ci dicono Dovete votare bene Oh guarda un topino Ma è Un topo Robocop Questo Vabbè almeno sembra un topo Che cavolo E si vince Con un distacco clamoroso Martina seconda Attenzione Sapete quanti punti ho fatto io? 18 Io penso che solamente noi due Ti abbiamo votato bene Marci Esatto Sì Questa volta ti sei proprio superato Io l'ho votato poop Ragazzi Anche da solo Sono riuscito a vincere Sono contento Almeno al secondo tentativo E La prima L'ha vinta Eh infatti Però Martina È cresciuta sul finale È arrivata seconda Quindi GG Fateci sapere Se vi è piaciuto Il topino E soprattutto Se volete altri Altri build battle Così in solo Tutti e tre O sempre in coppia Escludendo Martina E nel caso Un po' vi capirei Però Vi lascio comunque Lasciare Ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo video Un saluto da Iron Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti